Il sacerdote cattolico Ramon Guidetti è stato scomunicato per aver detto durante la Messa che Papa Francesco è un gesuita massone legato ai poteri mondiali. Nell'atto ufficiale della Chiesa Cattolica si insiste sul fatto che la sottomissione al Papa è necessaria. Durante il suo sermone alla Messa di fine anno a Livorno, Italia, questo prete ha affermato che Papa Francesco è un usurpatore, eletto sommo pontefice grazie ad una procedura invalida. Guidetti afferma che il Papa è un gesuita massone legato ai poteri mondiali. Per queste affermazioni, in sole 24 ore, ha ricevuto formalmente l'atto di scomunica. Secondo fonti del Vaticano, l'arcivescovato ha vietato a tutti i sacerdoti della zona di Livorno di collaborare con il sacerdote scomunicato, ammonendoli a non partecipare a eventuali celebrazioni o altre pratiche di culto del parroco deposto perché essi incorrerebbero, ipso facto, nella gravissima pena della scomunica. Cos'è la scomunica? La scomunica è la massima pena dell'istituzione ecclesiastica cattolica, chiaramente definita nel vigente codice penale canonico. La persona scomunicata viene espulsa dalla Chiesa e non può più ricevere i sacramenti. Sotto l'aspetto sociale, l'individuo viene isolato, non può celebrare la messa né convocare alcuna riunione, la sua azione politica in Chiesa è proibita. Ma l'aspetto spirituale è molto più grave perché la persona scomunicata è condannata al fuoco eterno. Secondo la Chiesa cattolica non può ricevere i sacramenti, dunque non riceverà la grazia salvifica e pertanto la sua anima è condannata alla perdizione, alle fiamme dell'inferno, alla sofferenza eterna. Mi sorprende molto che i preti che violentano i bambini siano trattati in modo molto più blando, mentre altri ricevono la più terribile delle punizioni solo per aver difeso in coscienza una posizione ragionevole e biblica su questo argomento, che però colpisce l'autorità inappellabile del Papa. Chi ha ragione? Ha ragione Guidetti ad accusare Papa Francesco di queste cose? Dicendo che è un usurpatore, un gesuita massone che è legato ai poteri mondiali. La verità è che questo Papa ha sorpreso il mondo, cambiando radicalmente il messaggio del Vaticano. I cambiamenti che Francesco sta attuando hanno suscitato l'opposizione di molti cattolici e l'entusiasmo di altri. I cattolici conservatori lo accusano sui social network di essere un falso Papa, che sta tradendo il messaggio a cui la Chiesa si è attenuta per secoli. Denunciano il fatto che Francesco sia impegnato ad emergere come leader sociale dell'umanità invece di concentrarsi sulla salvezza delle loro anime. Un'altra delle accuse di Guidetti è che il Papa è legato ai poteri mondiali. E io mi chiedo, c'è qualcuno che ne dubiti? C'è qualcuno in questo mondo che non sappia che il Papa è legato ai poteri mondiali? La storia del papato è una lunghissima serie di guerre e complotti, a volte molto oscuri, che hanno portato a crociate e perfino massacri. Anche oggi Francesco appoggia la proposta dei potenti, cioè l'agenda globalista, ispirata innanzitutto dal World Economic Forum, è ora anche promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. È davvero curioso che con Papa Francesco le coppie gay ricevano la benedizione cattolica, mentre sacerdoti conservatori di più costumi vengano puniti per la loro opinione contraria all'attuale papato e vengano puniti con la massima pena, la scomunica. E non aver peccato contro la legge di Dio, ma aver difeso ciò che la loro Chiesa ha sempre insegnato. Non vengono scagliati all'inferno per aver peccato contro la santità, no, ma per aver denunciato la svolta papale verso l'agenda globalista, verso un'umanità controllata da un governo mondiale in cui il salvatore dell'umanità è il nuovo ordine mondiale che promette di salvare il pianeta dal disastro ecologico, dal cambiamento climatico e di salvare l'umanità da guerre e carestie. Questo è l'antico ideale massonico, ora fortemente promosso da Papa Francesco. Se non conoscete l'ideologia di Papa Francesco, vi consiglio di guardare il nostro video Laudate Deum, la nuova religione del globalismo. Vi lascio il link in descrizione. Vi lascio anche il link per ricevere studi biblici e buoni libri, tutto gratuitamente. Questa crisi nella Chiesa Cattolica sta causando molta sofferenza. Molti cattolici sinceri sono immersi in questo dibattito pieno di scontri e accuse reciproche. Ciò causa dolore, ma è necessario. Il nostro mondo si farà sempre più turbolento e confuso. Così è scritto. Ma sebbene alcuni uomini possano deluderti, Dio non ti deluderà mai. Mai. Se la tua fede si appoggia su persone o chiese, cadrà. Ma se la tua fede si appoggia su Dio, non cadrà. Ma si rafforzerà in mezzo alle difficoltà. Coraggio, perché dopo la tempesta esce il sole, ed è bellissimo ciò che ci attende. Come scoraggiarsi quando le promesse di Dio sono così meravigliose? Cambiamenti. Ora i sacerdoti cattolici possono ufficiare una cerimonia liturgica di benedizione per coppie dello stesso sesso, anche per coppie di fatto, divorziati e risposati con un'altra persona, e per i matrimoni civili. Fermo restando che non si tratta del sacramento del matrimonio, ma di una benedizione sacerdotale. Ecco la dichiarazione firmata da Francesco che dice si può comprendere la possibilità di benedire le coppie in situazioni irregolari e le coppie dello stesso sesso. L'aborto è ancora considerato un peccato, ma anche l'atteggiamento nei confronti di questo tema è cambiato. Alla fine dell'anno santo della misericordia del 2016, Francesco ha dato il permesso ai sacerdoti di perdonare l'aborto con il seguente decreto. Concedo d'ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. Quindi è terminato l'attivismo antiabortista del Papa e il suo sostegno agli eventi pubblici antiabortisti, perché Francesco vuole conquistare la simpatia della società laica e deve conformarsi all'ideologia dell'Agenda 2030. La svolta maxista di Francesco è stato un cambiamento esplosivo. Nella sua enciclica Fratelli Tutti, il Papa presenta il suo piano per aiutare l'umanità, che vede la fine del capitalismo e della proprietà privata. Per saperne di più, potete guardare il video che abbiamo dedicato al tema, vi lascio il link in descrizione. Questi cambiamenti hanno sconcertato molti cattolici, perché implicano la predicazione di argomenti opposti a quelli dei papi precedenti. E le frange più conservatrici della Chiesa cattolica non approvano questi cambiamenti. Alcuni vescovi, e anche gruppi d'opinione, sono davvero turbati da questi cambiamenti. Li considerano un tradimento. Non li accettano. Sostengono che Francesco disubbidisce alla Bibbia e contraddice le regole della Chiesa e pertanto è un anatema. Persino persone di altissimo rango si sono dichiarati contrari a questi cambiamenti. Il cardinale Gerhard Ludwig Müller è prefetto emerito del Dicastero per la dottrina della fede, ossia il gofa delle decisioni dottrinali in Vaticano. Ebbene, anche lui è turbato da questi cambiamenti e lo fa presente quando viene intervistato. Risponde ai cambiamenti con dichiarazioni esplosive come questa. Né la visione gnostica di una piccola elite, né il magistero sono al di sopra della parola di Dio. Cioè, niente è al di sopra della Bibbia. Nessuno ha un'autorità superiore alla parola di Dio. E gli uomini devono ubbidire ad essa, non contraddirla. Questa è una dichiarazione che mi fa piacere e che suscita simpatia in tutti i protestanti. L'autorità è la Bibbia e nessuno dovrebbe dimenticarlo. Sottomissione. Il 3 gennaio 2024 i mezzi di comunicazione del Vaticano si riferiscono all'atto di scomunica dicendo che Guidetti ha pubblicamente compiuto un atto di natura scismatica, rifiutando la sottomissione al sommo pontefice e la comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. Personalmente mi colpiscono molto le parole usate in questo atto. Lo leggerò di nuovo, evidenziando due parole. Ha pubblicamente compiuto un atto di natura scismatica, rifiutando la sottomissione al sommo pontefice e la comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. L'ubbidienza e la sottomissione al Papa non sono uno scherzo. Sono questioni molto serie. La sottomissione al Papa non è appannaggio del Medioevo, è qualcosa di attuale ed è costata a Guidetti la scomunica lampo e la condanna al fuoco eterno. In questo caso, Francesco non è stato molto moderno né molto sociale. Sembra essere molto moderno per alcune cose, ma molto tradizionale per altre. Ciò che è certo è che vi sono cattolici ferventi che si oppongono al pontificato di Francesco, tanto laici quanto sacerdoti. Persino vescovi e cardinali hanno formato gruppi di opinione in cui argomentano le loro accuse, a volte con un linguaggio molto, molto duro. Lo hanno definito eretico, usurpatore, traditore, antipapa, satanista, impostore e molte altre cose peggiori e sgradevoli che non vogliamo ripetere qui. Anche alcune congregazioni religiose hanno preso una posizione ufficiale di rifiuto delle decisioni di Francesco, così come alcune istituzioni educative e associazioni cattoliche. E ora si scopre che in questo molti protestanti siamo d'accordo con la parte cattolica conservatrice. Entrambi condividiamo l'idea che Papa Francesco non rappresenti il regno della luce, bensì il regno delle tenebre. Su questo siamo d'accordo. Chi l'avrebbe mai detto, vero? Entrambi i gruppi concordano sul fatto che Papa Francesco stia conducendo il mondo verso un totalitarismo globale che realizzerà le profezie dell'Apocalisse e riceverà il marchio della bestia. Entrambi i gruppi concordano sul fatto che Francesco stia sacrificando la fedeltà della Bibbia per guadagnarsi l'appoggio della società ed allinearsi con le elite economiche del mondo. Entrambi i gruppi sanno che la fedeltà a Dio porterà a subire persecuzioni e lo accettano. Sta scritto la grande tribolazione, la tempesta perfetta. E la Bibbia è il manuale di sopravvivenza. Perciò qualunque sia il tuo credo studia la Bibbia, apprendi i suoi messaggi che possa essere per te la luce, la guida. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Nella descrizione del video vi lascio dei link di approfondimento in modo che possiate scoprire i messaggi della Bibbia. Per noi la parola sottomissione sì è importante, ma sottomissione a Dio e alla Sua parola. Quindi non accettate di sottomettervi ad un uomo. La nostra sottomissione è a Dio per la Sua infinita saggezza e il Suo infinito amore. Stanno per arrivare giorni emozionanti che metteranno alla prova la tua fede perché il regno di Dio si è avvicinato. La speranza si accende come una fiamma. Perciò cerca Dio, vivi con Dio ed Egli non ti lascerà mai. E tu cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti. Sarà un piacere leggerti. Ricevi un abbraccio da tutto il team di Logos TV e che Dio ti accompagni sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.